eccomi qui no e devo interrompere ogni tanti video almeno ogni 10 20 minuti qui c'è questa collezione praticamente hanno un po di cose dentro ma non è che sia così importante però l'edificio cioè l'edificio in realtà me non piace per niente no però però c'è chi dice che comunque fa parte dell'architettura di tokyo poi dopo tra due anni lo buttano giù cioè no non è vero questo però che tokyo potrebbe anche capitare questo ed altro e qui avanti praticamente se state notando così se avete un po di occhio potete vedere che c'è un palazzone gigante sul quale io sono stato all'ultimo piano sul tetto proprio c'è proprio un video mio non sto scherzando perché si pagano un sacco di soldi per arrivare al penultimo piano non vi dicono che si può andare all'ultimo piano fino a che arrivate lì e li vi dicono se paghi altri 300 yen altri due oretti più o meno ti facciamo andare fuori e allora tu dici insomma sono andato qua pagato già 15 euro 16 euro pagare altri due arrivare 18 euro per salire vabbè li paghi insomma e comunque è molto 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 bello soprattutto oggi è una giornataccia del cavolo non vi consiglierei di salire però in altri momenti è un palazzo che veramente c'è una vista spettacolare soprattutto la tokyo tower che lì vicina secondo me è veramente bello ho fatto delle fotografie di notte dall'alto che veramente belle qui c'è questo museo mi ha suggerito il mio amico andrea che è uno che mi ha mi ha dato un sacco di suggerimenti su tokyo andrea ti voglio far vedere qui è nezu museum che a dire la verità so che ci sono non so bene cosa c'è dentro so che ci sono dentro tipo dei vasi no credo sia un museo di storia del genere cose del genere però non mi sono mai informato più di tanto so che questo me l'aveva suggerito andrea e insieme ad altre cose che mi aveva detto lui poi qui ci dovrebbe essere il il negozio di l'omografia cioè l'omografi giappone eccolo lì pensavo fosse più in giù invece proprio qua praticamente vendono le olga e le diana sono delle macchine fotografiche praticamente sono dei pezzi di plastica che voi andate in giro scattatevi sentite creativi a me è successo così no? allora vi racconto la mia storia con la olga praticamente vedete qui questo l'omografi giappone praticamente voi andate in giro no? e un pomeriggio con questa macchina fotografica a pellicola medio formato c'è queste pellicole grande e dite madonna che fotografo che sono scattate e siete convinti di aver fatto dei capolavori a me questa è la mia storia poi andate a sviluppare arrivate lì dal vostro amico gli date il rullino vi chiama dopo due ore e vi dice scusa ma sono tutte bruciate e non è colpa vostra perché questa olga ha due funzioni no? credo sia impossibile bruciare cioè se bruci bruci poco o comunque se fotografi il sole magari chiaramente la foto diventa tutta bianca quindi è bruciata però io ho fatto queste immagini niente non è venuto fuori niente e dopo lui mi ha detto che ero stato io a mettere il rullino male invece secondo me che magari mi ha venduto una olga tarocca è entrata tutta la luce o comunque insomma non ve lo so dire il motivo so che so che poi mi sono stufato di ste olga due busti qui mi ero stufato e e avevo e avevo rinunciato dici violetta a raggiungerla forse la mi invita o c'è il coraggio ok dopo aver letto violetti devo sempre dire questa frase non sto scherzando anche quando tipo mi dicono ciao guarda una violetta e io dico sempre questa e praticamente io sinceramente in questo in questo preciso istante non conosco la strada che mi porterà a ropponghi ok ma è abbastanza facile perché c'è questo palazzone che si chiama mori tower che allora lo chiamano tutti i ropponghi hills ma in realtà ropponghi hills è l'area residenziale commerciale che al suo capo a questa mori tower che è questo palazzone di 272 metri se non sbaglio dentro il quale c'è un po di tutto alcuni piani sono accessibili altri no c'è la maggior parte no perché c'è un uffici cose così però adesso qui c'è vi direi che non poi mi guardano tutti qua ancora non so se avete notato cioè non sono io che penso di essere al centro dell'attenzione è proprio il fatto che madonna taxi cioè proprio il fatto anzi fatemi vedere una cosa qui che era un po curioso volevo vedere questa casa qui volevo capire un attimo vedete intanto distributori automatici a gogo bella questa che è bella non l'hai mai vista non so che è c'è una ripresina qui queste riprese qui sono molto tattiche poi mi serviranno belle stiamo anche stessi palazzi qui palazzi questo casetto allora torniamo a parlare di di che e stavo dicendo no dicevo non penso io di essere al centro dell'attenzione se avete notato quando la telecamera in mano mi guardano tutti ok quando io non ho la telecamera non mi caga nessuno e poi infatti su questa cosa di non guardare le persone cioè vabbè è anche brutto magari guardare gli altri però io in italia soprattutto tipo in italia va in giro nella tua città nel tuo paese passa qualcuno guardi dice chi è quello ma è il mio amico lo saluto mi fermo a tokyo c'è la la brutta abitudine no brutta cioè ognuno dopo si fa quel cavolo che gli pare per vedere un attimino qua no niente procediamo sempre un po di qua praticamente a tokyo c'è sta brutta abitudine di di non guardare cioè quando allora la gente di tokyo è così cammina così guardate con i piedi così questa è la gente di tokyo quelli che lavorano 30 ore al giorno no 30 ore su 24 chiaramente non è che voglio dare uno stereotipo dei giapponesi di tokyo però c'è un po questa a qui c'è la galleria questo mi piaceva no sto posto un po d'antiquariato particolare poi c'entra un consigliore guarda questi orsetti no e perché sono un po tutti di corsa tokyo adesso non appunto non volevo offendere nessuno no cioè questa era un po una caricatura così per far ridere come come tante volte magari quando ci sono gli italiani e giapponesi non è che gli racconto che l'italiano non è normale gli faccio un po delle caricaturine no perché poi gli spiegano non è vero no per esempio no gli ho detto cioè per farmi per darvi un'idea c'era il mio occhio ieri che era in ospedale e insomma io sono stato lì cinque ore più o meno insomma stai inferniere o ogni mezz'ora e arrivano e prima al tè e poi sei caldo e poi ti portano a medicina c'era ogni mezz'ora allora l'ho detto ma anche durante la notte la sera sempre così io sì sì sempre più o meno ogni ogni ora mezz'ora due ore così insomma arrivano allora gli ho detto madonna ma che palle no e allora mi fa sì abbastanza allora l'ho detto guarda in italia da questo punto di vista è meglio perché non vengono mai se te sei lì che muori non vengono c'è cosa devono venire a fare muori no allora l'idea poi l'ho detto guarda non è così era per ridere chiaramente lei lo sa che io dico cazzate così tanto per spararle beh intanto vi faccio vedere che qui sto procedendo verso l'opponghi cos'è sta roba cucina il ramo only reserved ciò che è sta roba cucina il ramo cucina il ramo dai sta roba qua sei capace è bello anche questo no ci sono queste cose qua che un po' strane dopo ritorno a parlare di sti giapponesi e praticamente no e i giapponesi hanno sta pessima abitudine di guardi si dice di guardare vabbè non è che bisogna stare lì a guardare tutti tata però hanno questo metodo di andare per strada infatti tanti italiani pensano no dicono a italiano lì spacca questa è la frase che ho detto anche in altri video italiano lì spacca allora uno pensa no vado lì va in giro per strada c'è le donne ti cadono ai piedi no non è così perché chi arriva qui a tokyo chi è stato lo sa tu vai per strada ma non ti caga nessuno cioè a parte qui alla telecamera come sto facendo in questo momento ma in linea di massima non vi caga nessuno per strada ovunque quindi è per questo che io sul mio sito che è www.marctoni.it ho creato la sezione incontri ok sta sezione incontri benedetta e maledetta ci sono tanti italiani che ci hanno creduto e infatti funziona e me l'hanno confermato tanti dubbiosi sono la solita fregatura ma andate a quel paesino perché sta sezione incontri è fantastica perché intanto praticamente io sono collegato a una società che c'è tutto stato dato a base di indirizzi vabbè ma funziona perché a differenza di quello che si può credere adesso è Ropponghills cioè Morita ora è di qua no? vi voglio farvi vedere un attimino queste zone qui e dicevo sta sezione incontri voi ci potete trovare le ragazze giapponesi che sono interessate effettivamente a conoscere gli stranieri perché qua la maggior parte delle persone di voi non interessa una cipa lippa ok? qui sono Ropponghi no? e insomma che faccio qua? ah caffè la bohème la bohème è italiana vabbè si vabbè è italiana però vabbè il nome non era molto italianizzato una cantina e praticamente voi se venite qui la maggior parte delle persone di voi non interessa una cipa lippa a meno che non prendete quel mino di confidenza ma basta anche poco che poi da lì scatta questo senso di ammirazione e curiosità per voi che venite comunque da un posto lontano poi tra l'altro è anche da sottolineare che il Giappone è un'isola quindi storicamente ma anche tuttora ci sono un sacco di persone che non sono mai state all'estero e questo non essere mai andati all'estero comunque incuriosisce un po' riguardo alle altre culture è pur vero che qui in Giappone l'americano l'americano no scusate le cose americane sono arrivate e molte cose sono si può dire importate non so bene se può essere una cosa da dire però tanto per dirvi i negozi aperti 24-24 che ci sono anche in America anche gli stessi taxi no? però vabbè queste cose forse sono un po' banali comunque anche tanto cibo le cose un po' americane sono state importate e quindi ultimamente insomma il giapponese medio è abbastanza aperto internazionalmente però chi viene dall'estero chiaramente suscita un po' di curiosità non è come magari in Italia arriva uno, un cinese cinese ho detto proprio ne arrivano tanti insomma non è come i giapponesi che magari ci sono di meno arriva un cinese e uno dice cacchio me ne frega adesso qua vado a mangiare l'involtino di primavera ma non gli chiedo magari la sua storia come mai è qui no? e niente allora se voi arrivate qui appena iniziate magari a trovare quel minimo di confidenza poi scatta quella molla che così tac e poi inizia tutto però di base di voi non interessa a nessuno ok? se invece andate su appunto sta sezione incontri che ho fatto sul mio sito www.margotani.it lì il metodo funziona perché trovate sempre persone, ragazzi e ragazze che si sono iscritti per i vari motivi poi ognuno ha dentro nel profilo il motivo c'è chi magari si è iscritto perché vuole fare conversazione chi vuole conoscervi chi vuole trovare il fidanzato, la fidanzata e così via ok ok, ok e insomma ah questo, questa sopraidevate è una cosa classica qui di Ropponghi no? tra l'altro insomma mi sembra di aver detto un po' come funziona poi adesso ci sarebbero magari vi viene in mente qualche qualche cosa da dire, no? eh ma non è vero perché sì, dopo ognuno ha la sua però di base chiunque sia stato in Giappone può confermare che andando per strada è un po' non è facile conoscere una persona eh che fermi e dici ciao come va? perché a meno che non parlate giapponese se parlate giapponese bene benino c'è un po' più di chance anche per fare amicizia con qualcuno però comunque in generale sono abbastanza schivi come in Italia non è che andate lì a Milano fermate prima che passa e iniziate a parlare non è così ah quello è un murales ma pensavo lo togliessero dopo Capodanno invece è rimasto non so se è un murales forse è semplicemente una pubblicità attaccata so che lì c'è una pubblicità per Capodanno ma credo forse proprio una cosa che l'ha parlato di essere invece no facciamo un altro stop di video tra poco dai anzi lo faccio adesso ci vediamo anche in fondo dai che così riprendo anche un po' fiato e mi faccio vedere qualche altra idea da da proporvi da parlarne un pochino ok ciao a dopo ci vediamo guardate 400 metri che poi più avanti c'è Ropponghills c'è un rioli ok e ci sarà up on the hills